Assessore Stellato, è arrivato il contributo dalla Regione per i fitti per chi ha un reddito non superiore ai 18.000 euro l'anno, quindi una facilitazione per queste famiglie che sono in difficoltà? E' stato assegnato l'importo che spetta al Comune di Pozzuoli e siamo molto soddisfatti, a Pozzuoli spetteranno circa 460.000 euro e questo chiaramente sulla base di una prima scrematura che hanno fatto gli uffici in base alle nostre richieste. Adesso per poter ottenere questo contributo ci sarà un iter burocratico che dovete seguire perché queste famiglie possano ricevere questa facilitazione? Sì, c'è un lavoro molto complesso da fare senza soluzione di continuità perché abbiamo dei termini da rispettare. Ovviamente la gente non può pensare che avrà subito il contributo perché daremmo un'informazione falsa. Bisogna rispettare il termine del 29 settembre, entro il quale bisogna poi approvare la graduatoria e mandare in Regione tutti gli atti necessari per l'erogazione delle somme, compresi i controlli che dovranno essere fatti necessariamente, in quanto le richieste sono state fatte in base ai redditi autocertificati dai richiedenti. Grazie a tutti.